Il sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani conferma la chiusura al traffico di Largo Orio Vergani, un'area pedonale di 60 metri quadrati che si trova in zona sterope tra Piazza Sant'Alfonso e Piazza Mediterraneo. Contro tale decisione hanno avviato una vera e propria battaglia i consiglieri comunali, anche della maggioranza che hanno presentato in consiglio una mozione, e i residenti commercianti della zona che hanno avviato una nuova raccolta di firme per chiederne la riapertura. Il primo cittadino spiega che andrà avanti per la sua strada e che a volte si sente come un salmone che nuota controcorrente. Questi 60 metri hanno ripreso vita con persone che passeggiano, hanno restituito la centralità Piazza Sant'Alfonso, perché da qui ora noi vediamo appunto alle nostre spalle Piazza Sant'Alfonso che ridiventa centrale con la sua chiesa rispetto alla città. Abbiamo fatto tanto per riqualificare e non ci faremo convincere da quei pochi che ci dicono che invece vogliono le autovetture parcheggiate ovunque, fare 60 metri a piedi, qui ci sono anche i portici, magari anche se piove è possibile passare sotto i portici, quindi non c'è neanche questo problema. Fare 60 metri a piedi non può essere un problema nel 2019 con i temi ambientali, con ciò che si dice appunto sull'inquinamento. Ora non è che voglio sostenere che 60 metri di strada chiusi miglionino l'ambiente, non arrivo a tanto, però sono un simbolo, un simbolo di una città che cambia, che progredisce, che va verso la pedronalizzazione. E verso la riqualificazione di Piazza Mediterraneo? Quando saranno effettuati i lavori? Allora questa è una riqualificazione che ovviamente sta andando per step. Prima ci siamo occupati di Piazza Sant'Alfonso, ora di Largo Orio Vergani, c'è la terza parte del lotto che riguarda appunto il ricongiungimento con la piazza sul mare. Sul quando io spero presto, non posso dare una data perché questo sarà oggetto di discussione e di programmazione anche con i consiglieri comunali, però è certo che abbiamo già il progetto, una parte è già un progetto esecutivo, quindi io penso a breve vedremo anche il terzo lotto partire.